Su Fiam Vidaoui, una sconfitta che brucia molto, nonostante il tuo gol avesse riaperto un po' i giochi e quindi ci avete creduto anche per agguantare un pareggio. Come hai visto la partita? Abbiamo cominciato, penso, un po' male all'inizio del primo tempo. Abbiamo un problema che cominciamo sempre un po', non lo so, debole. Si riprendiamo sempre nel secondo tempo. Abbiamo provato nel secondo tempo di fare bene, ma non era sufficiente. Il mister dopo la partita con il Lecce aveva detto che bisogna tenere alta l'attenzione perché si verificano degli episodi da cui poi Lascoli subisce il gol. Anche oggi però è andata così. Si, anche oggi su calciapiazzati abbiamo fatto un gol e un po' fa male alla squadra. Come mai nel primo tempo non avete trovato dei barchi, degli spazi in avanti? Loro hanno giocato, la difesa era alta, abbiamo provato di giocare come sempre ma non è riuscito il primo tempo. Dopo il tuo gol secondo te perché non siete riusciti a dare continuità alla manovra offensiva? Abbiamo provato di fare bene dopo il mio gol e abbiamo dato tutto per riprendere la partita ma non è andato bene. Oggi primo KO in trasferta, ora l'imperativo è tornare subito a vincere a partire dalla prossima sfida di giovedì con la SPAL. Sì, giovedì è una partita importante a casa, speriamo che facciamo un buon risultato. Grazie. Grazie. Va bene, scusa.